secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie me ne rendo conto che ormai vi abbonate per il telegram me ne rendo benissimo conto lo so lo so me ne rendo conto infatti vi è severamente vietato creare un gruppo tipo a parte dove può entrare chiunque giusto per vi denuncio nel caso lo facciate grazie niche per il tocca rinnovare per non perdere gli amichi del telegram inizia a vedersi un po di pancia di che pancia di che pancia di che ma che sei pazzo sono uscita dai sordi alimentari lo giuro nella casa e nell'abitudine sia tanto diversi quindi non ti vede non ti senti ma puzzi quindi perdi punti ci sta ma se non lavi non ti pulisci che significa perfetta potremmo sentire la lune verde nell'aria quando sei dentro le mure di casa no raga non è proprio vero no no vi dirò io sono incredibile perché io mi faccio tantissimo i cazzi miei so tanto per il mio magari sto a me la stanzetta e manco esco non mi vedi non mi senti manco ti rivolgo la parola quindi sarebbe come vivere da soli quindi sarebbe perfetto avevo detto ho toccato le tette sudate di lucilla una volta mi ha messo la mano in mezzo dove sta tutto sudore si ha fatto abbastanza schivo e poi puzzava? non l'hanno usato non ci ho pensato perché sennò stavi gustando lucilla dicendo che stessi no ma io ho detto tutto ormai il mio conto è un torno di stare tutti comunque volevo partire prima di allora perché perché ho chiamato pancake qua perché oggi mi sentivo sola giusto e volevo che dicessero la roba di Daniele e adesso può anche rilevarsela il concetto di pochettina e Mario scopano si scopiamo tantissimo io ho succhiato il suo grosso cazzo succoso a fungo bello mi piace mi sono fatta una pasta e fagioli mi si chiama la pasta e fagioli si lui mangia la pasta e fagioli a proposito io stavo pensando seriamente devo chiederlo Edoardo se me la fa fare così di farmi una sedia a meme cioè vorrei tanto una sedia a troia del masseo se è possibile o una cosa del genere quindi basta riprendere la sedia del masseo e trovarla a troia del masseo cosa voglio dire che questo è Mario dai cambia il titolo della live cosa no no adesso hanno cambiato adesso anzi ho visto sotto alcuni video che adesso c'è oppure anche veramente in chat adesso voglio che dita tradisce Mario con con Edoardo io ho visto anche dei commenti sotto video di youtube gente che dice ma da quando sta con quello la vedo cambiata di Daniele che l'ho beccato che camminava alla Games Week era sabato intorno buongiorno panchechi fortissima grazie dicevo era sabato sera intorno alle 7 quindi si era svuotato tutto non c'era più nessuno e mi dicono guarda lì c'è sdrumox io mi giro ma adesso non lo vedo dico ma chi ma lui interessava meno io ero andata lì per vedere comprare roba fumetti gadget queste robe qui e quindi dico questa parte mi è sembrata davvero inferiore per il costo del bigliotto è stato inferiore mi è sembrato che appunto abbiano rincarato un po' il biglietto perché hanno fuso queste due cose e hanno usato voi un po' per attirare tutte le persone e poi voi eravate inarrivabili non lo so questa è stata l'impressione che ho avuto io però io ho come dire è l'impressione che ho avuto io che ho bazzicato davvero poco probabilmente sarebbero 20 minuti perché i primi 10 c'era la intro la tetona raga l'impasto della pizza ma come stai facendo puoi ridere quello che hai detto di Daniele? mi ha fatto molto ridere puoi ridirlo di Daniele? che l'ho beccato che camminava? è che vuole fare un sacco di battute ma rattieni ti respira chiero grazie per il dodicesimo mese grazie per l'anno 12 mesi con la miglior streamer grazie per chi per questo mese insieme è minore di 3 esatto Quentin ma chi è in tira? dai così no no oddio 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 no oddio no oddio oddio no mamma mia sento l'odore da qui perché ti fai del male a stile belli con il cestino con il cestino e pensa che dopo dovete andare per la casa con la fiatella sta lacrimando raga sta lacrimando no perché si è entrato però lo stesso le storie o cose di questo genere no e per me non era così scontato ok? se posso essere sincera e sono stata molto fiera di me che comunque la storia per One Piece 3 l'ho fatta sai che sembra una cazzata ma vi giuro che per me significa veramente tanto perché io non voglio fare questa roba cioè mi metto un po' a disagio e quindi il fatto che l'abbia fatto è tipo wow ho fatto il mio lavoro lo so grazie 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 facciamo una cosa se ti senti a disagio durante il meet faccio il cosplay lo so lo so e ma perché? raga raga diciamoci la verità raga nel momento in cui vedi che oh il masseo ha invitato qualcuno in macchina con lui e la sta facendo entrare da dietro insieme a lui oh chissà si hanno scopato no è ovvio che stanno a pensare a quello e quindi voi sentite in macchina e hanno detto si piacere sono su a Troia dai ma perché è ovvio che stanno a pensare a quello veramente ce lo senti proprio lo sai che è così è un vibe che senti invece getassi un patatino bellino che ho visto Fallen God grazie per il sesto la loro idea sono tutte bravi persone eh oddio non so aspetta niente ma se getting visto greve zii raga cerbero ho conosciuto quelli del cerbero ho visto la loro gente sono un sacco numerosi però sto bellini non me l'aspettavo cioè sono tipo e si esaltano per qualsiasi bello tipo gamberetti gamberetti bello grazie per i 25 e tanto lo direi la stessa figura di sì 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 grazie 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 per la stronti di stay time allora se conosci una certa stay time sta nella larga è una stronti di merda va bene è super falsa è una faccia carina che colosa ma è realtà una stronza ho sentito che erano ieri della stronza a tutti quella è la stronza quella è la stronza quella è la stronza perché le giulie sono una brutta razza no vero ho una parente no una stronza guarda che strano tutte le giulie se non sbaglio anche mogico in realtà si chiama giulia lei la salvo un buon timido non è riuscito a dirti chiederti altro sappi che hai generato in vita giulia tra i miei amici sono diventato quel figo per una mezz'oretta ti amo ma in segreto va bene nello il pisello thank you so much è che questa faccia carina e coccolosa come tutti quanti ti amano perché erano lì study time giulia premi no che se tu le vedi di faccia sono l'esatto opposto giulia premi così e invece study time che è tutto eh sono l'esatto opposto e quindi ero tipo lì che guardavo study time e mi dicevo tu sei una stronza perché tu hai questa faccia che esprime gioia e felicità e sei carina e quindi tutti ti amano invece lei ha la faccia la stronza no e quindi lei è una stronza non lo so c'è proprio mi sono messa lì così diverse ma entrambe stronze esatto ho capito che intendo 20 sub nel mio canale la berreca 10 sub finisce tutta la mattina no no non so no finisco il bicchiere no il bicchiere si dai non è andato male gli è piaciuto tutto ciao 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 ciao